Il 29 giugno scorso Marco Demitri e Cataldo D'Amacco, agenti di polizia, erano fuori servizio. Intorno alle 14 erano sul lungomare di Bari, poco prima del Faro. Un gruppo di turisti croati residenti in Svizzera, dopo aver parcheggiato, erano intenti a immortalare con la macchina fotografica in nostro mare. Un giovane ne ha approfittato infrangendo il vetro dell'auto. Un tentato furto che i due poliziotti non è sfuggito e non hanno esitato ad intervenire. Anche Sergio Barone era libro dal servizio la sera del 20 giugno. Era in un supermercato e faceva la spesa. Rapinatori in azione, alla cassa, intervenuto sparando verso il basso, mettendoli in fuga e scongiurando il peggio. Tre uomini, affiancati dal dirigente delle volanti, Giorgio Liva, orgoglioso di tre agenti che il presidente e vicepresidente della Commissione Cultura del Comune di Bari, Mariani e Melchiorre, hanno voluto premiare. Abbiamo notato una persona in fuga, quindi ci siamo subito messi all'inseguimento e bloccato subito dopo, con l'aria furtiva ancora nelle mani. C'era anche il rischio dell'incolumità fisica loro, perché la persona non aveva intenzioni positive. Quindi questo premio fa bene al cuore. Sempre più cittadini, comunque sono dalla nostra parte, apprezzano il nostro intervento, sia nella quotidianità operativa e anche quando lo facciamo liberi dal servizio. Una cerimonia semplice ma importante per testimoniare l'impegno quotidiano profuso da uomini della polizia che, benché liberi dal servizio, non vengono meno al proprio dovere, operando sempre al servizio della società. Una cerimonia semplice, organizzata dalla Commissione Cultura del Comune, che serve a dare valore alle cose semplici. È una cosa fatta col cuore per dire grazie a tutti gli operatori del servizio polizia, carabinieri, guardie di finanza, che ogni giorno svolgono un lavoro bellissimo, silenzioso e le istituzioni devono ringraziarli quotidianamente per quello che fanno. Grazie. Grazie. Grazie.